Hello guys, benvenuti in questo nuovo video, finalmente sono arrivati i box per il 25esimo anniversario di Yugi e infatti eccovi a voi tutti i box che apriremo pian piano qui sul canale, anzi potrebbe essere anche che arriveranno più video del solito durante questa settimana la prossima e scusate questo rumore ma ci sta il ventilatore ma purtroppo non ho l'aria condizionata e mi devo arrangiare e sta soffrendo anche lui ecco quindi oggi iniziamo col primo set di Yugi la leggenda del drago bianco occhi blu e non è l'unica cosa blu ma ci sono anche le nostre forbicine prima di continuare se siete nuovi benvenuti nel mio canale mi occupo appunto di retroformat quindi unboxing a tema Yugi Yugi come potete vedere di prodotti anche vintage coreani e non ma anche appunto tech profile dedicati ai formati vecchi e principalmente durante questo periodo mi sto occupando di dell'edison format iscrivetevi oppure arriva il drago bianco che bombarda casa no non si dice vabbè allora in ogni caso il primo set di Yugi go cosa ne pensi stardust per me una vera cacata mi spiego meglio allora io intanto andrò ad aprire il box sempre che riesca ok ma mi spiego meglio allora diciamo che dal punto di vista di carte di valore abbiamo poco e niente nel senso che abbiamo il blue eyes exodia e vabbè carte un po iconiche della serie o qualche stable tipo la evistom mi pare si trovi qui dentro però appunto non sono carte di chissà che valore e ora che andremo ad aprire il box diciamo capiremo meglio diciamo questa espressione da me per quanto riguarda la cacata di box anche perché la cosa che un po mi urto il pene per non dire la parola brutta è il fatto che il ratio delle delle carte sia lo stesso dei box del passato di conseguenza diciamo trovare carte buone e molto molto complicato allora c'è M where che è warrior che è mister eh vabbè school servant saluto ad alto un attimo che devo evitare contro luce l'angelo di tea oh abbiamo la prima rara ma incredibile che cacchio che volevo trovare comunque vabbè tranne qualche carta che appunto magari è figa o diciamo abbiamo diciamo che è bella quando in realtà fa schifo ma diciamo per l'appunto solo perché siamo legati emotivamente a quella bustina non è che ci sia granché all'interno della dell'espansione anzi è pieno di gialloni letteralmente inutili ecco ma che è sto robo che è drawing lizard sì l'ho presa in inglese per risparmiare oh questa almeno eh vabbè abbiamo la prima ultra il braccio destro del proibito che è anche il braccio che utilizziamo di più per fare certe cose ma io non vi ho detto nulla io mi riferivo al cucinare assolutamente assolutamente al cucinare non è assolutamente un braccio chiamato federica di exodia ma vabbè quindi abbiamo come prima ultra mmm che è che mi guarda sì c'è la mia ragazza qui davanti che mi sta giudicando malissimo e le faccio queste battute del cacchio flower wolf ma è incredibile guardate uno dice ammazza che belli artur pipia ma cioè quelli di mo non sono tutte fighe le carte perché con le cose un po da le bimbettine mi fanno un po schigo però certe altre carte sono fighe però queste qua hanno il loro stile ma certe fanno veramente cacare cioè il guerriero castoro ma che mi rappresenta vabbè l'uccello del teschio rosso perché lo sto mettendo qui sono alquanto confuso quindi continuiamo la prossima espansione allora diciamo come espansione la suggerirei da comprare no fate prima a comprarvi le carte singole perché diciamo è un box dedicato più appunto a magari chi gioca a goat per l'appunto ma facciamo che le rare le evito di mettere tutte assieme e prendo solo quelle utili comunque dicevo è utile solo per nostalgici per l'appunto chi vuole aprire un po' per rivivere un po' quei ricordi di quando eravamo bambini quello assolutamente sì lo consiglio ma se uno vuole comprare dice ah voglio comprarlo per poi rivendermi le carte allora la risposta è mi sa che non c'è capito granché uh spadaccino di fuoco incredibile la super e lo mettiamo qua quindi stiamo riprendendo un po' carte di yugi e joy joy il vero king della serie che dice il contrario non ha capito nulla perché obiettivamente tutti diciamo ah io sono seto gaiba ah io sono yugi ma la verità è che siamo tutti giovi che è sta cosa grigio scuro che è un colore acquamero mamma mia si brutti sti gialloni mamma mia e ogni volta interrompo il pensiero mentre se appunto volete giocare competitivo quindi l'unico formato per cui si presta questo box uh dark hole figo si presta questo box e got con qualche carta tipo per esempio pot of greed però già dark hole potreste utilizzarla in tengo plant ma comprarvi un box per una carta per una carta risolto un po' inutile spaccatura questa che all'epoca spaccatura che è un po' lo spacchino dell'epoca che c'è certo ora potrebbe far cagare prima anzi ne di son parlato assolutamente c'era anche una lista che aveva fatto top con gadget che sfruttava queste carte e certo diciamo che queste carte le vediamo sempre meno perché diciamo il formato viene sempre più esplorato ci si rende meglio conto di magari ci si rende meglio conto che alcune carte funzionano meglio di altre pian piano e quindi magari carte oh il buco trappola carte che prima avevano un determinato impatto cominciano a vedersi per l'appunto sempre sempre meno dato che il formato viene studiato sempre studiato e giocato sempre più io spero che non si veda nemmeno il riflesso guarda là quante carte Yami chiamiamolo Yami Yugi ma incredibile Yami comunque una delle carte secondo me più belle all'interno del gioco e vabbè procediamo con questo unboxing diciamo che da questo box non è che mi aspetto granché cioè da una parte spero di trovare il blue eyes per carità però diciamo che dall'altra spero ecco sto per di la secret abbiamo trovato il drago tricorno mi pare si chiamasse in italiano ok abbiamo la secret è finito l'unboxing ragazzi quindi la prima fila diciamo è andata abbastanza benino obiettivamente abbiamo il braccio di Exodia il drago tridente non so manco più quale fosse il radio dei vecchi box onestamente a parte la rara assicurata io andrò sempre abbastanza spedito cos'è sto cosa? che è? oh questa onestamente è mai vista ora la gioco con il rescue rabbit ma che è sto pack? spesso come come la carta dopo il buffeo quindi oddio pensavo di aver tagliato la carta e scusate se sono un po povero di discorsi ragazzi però diciamo sto cercando di registrare post giornata lavorativa e non voglio dire di fretta però dato che ho dei viaggi di lavoro da cioè un viaggio di tre giorni di lavoro devo registrare diciamo tutto il prima possibile da una parte anche perché i box per l'appunto mi sono arrivati con un ritardo abbastanza mostruoso quando dovevano essere qui circa una settimana fa però vabbè non posso dare le colpe troppe colpe in giro giustamente cioè non è che sia di peso da me assolutamente no però e ragazzoli io nel caso vi interessasse lo ripeto contenuti retroformat ho anche unboxing di altro tipo sui prodotti coreani passate sempre sul canale ci stanno abbiamo tante espansioni dedicate al formato edison e spero in futuro questo me lo metto da parte perché serve sempre il formato edison quali sono le migliori e appunto tramite diciamo questa mia playlist questo mio format potremmo definire vado ad illustrarvi cosa si può trovare all'interno e se ve li suggerisco o meno di base quelli che porto sono tutti suggeriti poi dipende sempre in base ai gusti cioè ai gusti a quello che cercate non ha i gusti ma anche ai gusti di base uno può anche comprarli per spacchettare e a proposito di questo se appunto siete interessati ai box coreani vi invito a visitare JackStore e unirvi anche al mio server discord per appunto accedere al mio referral link così che io posso avere una piccola percentuale sul vostro acquisto voi ovviamente non pagate nulla in più però praticamente andate a contribuire al canale con il vostro acquisto questo di base il prezzo è sempre sempre lo stesso poi invece se caso che vogliate acquistare questi box appunto la leggenda del drago bianco scontati vi suggerisco invece la Jillastore che appunto l'altro mio sponsor che vende i box e avete uno sconto del 5% tramite il mio codice sconto per l'appunto qui sotto in descrizione quindi per maggiori informazioni andate a controllare io ripeto non mi aspetto granché da questo box infatti sto andando non dico annoiato ma... quasi pieno di giallo... che vi devo commentare? la... 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 la sirenetta qua... la sirena affascinante ma che... ma che è? ma che schifo è? scusate sono... cioè... li vedo sono carte legate ai... ai ricordi appunto all'infanzia però obiettivamente non sono carte belle tutte cioè... bisogna essere obiettivi e oggettivi su... su alcune cose ecco... lo scusservant invece... eee abbiamo il piedino destro ok fate immagini che tipo in un box trovi tutto Exodia cioè sarebbe tipo la cosa WTF abbiamo già due pezzi di Exodia su 5 io non ho... vi giuro ragazzi fino a poco fa non ho mai avuto un Exodia ora finalmente ce l'ho e mi farebbe ridere tipo se trovassi tutti i pezzi in un box vabbè qua non abbiamo nulla ufff... abbiamo ultime due bustine fate le quotazioni però... credo di... che abbiamo trovato già... già tutto minchia il ventilatore ha spinto il pezzo della bustina direttamente verso gli scarti ma questo è proprio professionalità a alti livelli Ane Ane... per quanto riguarda Ane Ane una curiosità se non erro questa carta qui è stata prodotta... cioè è stata rilasciata soltanto in TCG nel 2002 appunto quando è arrivato il box della leggenda del drago bianco occhi blu quindi... ultima bustina box diciamo secondo me nella 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 media diciamo tipo aaaah invece no ho trovato il mondo cioè magari ha trovato un'altra pot of grid non mi farebbe male ed E3 ed E2 ed E1 e infatti non abbiamo trovato più nulla quindi... ricapitolando sulle carte che abbiamo trovato questa può andare anche a quel paese abbiamo una pot of grid una federica un braccio... una gamba sinistra che che è? braccio destro o sinistro sono... sinistro la tema del drago il buco nero il buco trappola lo spadaccino di fuoco questo vabbè raro lo metto qui e il nostro drago tridente quindi ragazzoni grazie per la compagnia per aver guardato il video fino a questo punto e a questo... a questo punto scusate se mi ripeto andremo ad aprire direttamente il box di meta raiders quindi... arrivederci e alla prossima opening con la decrofile quello che volete see you next time